Allora, io vi posso... Allora, vi lascio il mio numero di telefono, non è un problema, tanto ormai, al limite anche con qualche indirizzo mail se lo potete lasciare, vi lascio il mio numero di telefono, è più semplice. Allora, se ve lo segnate, quindi tutte le situazioni di disagio, fatemmele sapere, perché i giornalisti che stanno seguendo la lotta e stanno dando tanto spazio, hanno bisogno di fatti concreti, è chiaro? Quindi loro vogliono cose concrete, anche lì dove ci sono docenti, maestri che vanno a sostituire il lavoro dei collaboratori, fatecelo sapere, che è importante. Allora, 3, 4, 9, 23, 44, 6, 2, 5. Alessandro. Vogliamo dimostrare a questa signora della Germini che si è definito pecore o capre. Allora, volevo dire, dimostriamo a questa grande signora della Germini che ci ha detto che siamo delle capre o delle pecore, che è l'unica capre che esiste in Italia, è lei. Facciamoglielo però, stai senti, tutti qua insieme, uniti. Grazie.